Chirurgia robotica, un'eccellenza palermitana ma soprattutto dell'ospedale Villa Sofia Cervelli. La chirurgia robotica ha avuto inizio negli anni 2000 con l'approvazione dell'FDA in America. Il robot nasce principalmente per la chirurgia urologica, poi varie branche hanno sviluppato questa tecnologia, in particolar modo l'otorino-aringoiatria. Diciamo che la chirurgia che principalmente noi eseguiamo con il robot è la chirurgia dell'OSAS, cioè la chirurgia delle apnee notturne, la chirurgia dei tumori dell'orofaringe, dello spazio faringeo, dell'ipofaringe, dell'aringe e in particolare anche della tiroide con un accesso trans ascellare quindi con cicatrici non visibili. Ne parlerete durante un convegno questa settimana? Sì, è un convegno con la chirurgia live dove vengono altri chirurghi da fuori, principalmente da Torino, da Roma, da Arezzo e da Milano a eseguire degli interventi in diretta ed è un evento, un corso di formazione organizzato dalla società di Torino, la linguagliatria, ospedalieri italiani di cui io sono consigliere ed è il primo corso di questo genere che si fa in Italia. Chirurgia robotica è già presente da qualche anno qua? È presente dal 2008 con il vecchio modello, al 2012 con il nuovo modello di robot e speriamo che prossimamente acquisiamo il nuovo modello che uscirà proprio in questi mesi nel 2020 in Italia. Gli interventi, come dicevo prima, che più facilmente approcciamo con la chirurgia robotica sono gli interventi per i tumori della base della lingua, per i tumori dello spazio orofaringeo, dell'ipofaringe e dell'aringe e anche della tiroide. Inoltre gli interventi di Torino e linguagliatria che prima erano abbastanza visibili da un punto di vista estetico con cicatrici esterne, anche sul collo, adesso con la chirurgia robotica riusciamo a fare degli interventi in assenza di cicatrici e in assenza della cosiddetta tracheotomia che prima era un evento non ben sopportato dai pazienti.